Lettera ai Colossesi Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Timoteo salutano voi che a Colosse siete il popolo di Dio e nostri fratelli nella fede per mezzo di Cristo. Dio nostro Padre dia a voi grazia e pace. Quando preghiamo per voi, sempre ringraziamo Dio, il Padre di Gesù Cristo nostro Signore. Lo ringraziamo perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che mostrate verso tutti quelli che appartengono al popolo di Dio. La vostra fede e il vostro amore sono fondati sulla speranza che vi aspetta nel cielo. Ne siete informati da quando per la prima volta giunse tra voi il messaggio della verità, cioè il Vangelo. Il Vangelo cresce e porta frutto in tutto il mondo, come ha fatto in mezzo a voi da quando avete sentito parlare dell'amore di Dio e avete conosciuto che cosa esso è veramente. Queste cose le avete imparate da Epafra, nostro carissimo compagno, il quale lavora per voi come servitore di Cristo. È lui che ci ha parlato dell'amore che lo Spirito di Dio suscita in voi. Perciò, da quando abbiamo sentito questo, preghiamo sempre per voi, chiediamo a Dio che vi faccia conoscere pienamente la sua volontà e vi conceda la saggezza e l'intelligenza che vengono dallo Spirito Santo. Così potrete vivere una vita degna del Signore e fare in ogni cosa la sua volontà, portando frutti abbondanti in ogni vostra opera buona. In questo modo la vostra conoscenza di Dio sarà sempre più grande. Così diventerete sempre più forti per mezzo della sua gloriosa potenza. Resisterete con pazienza di fronte a tutte le difficoltà, ringraziando con gioia. Dio nostro Padre ci ha fatti partecipare ai beni preparati per il suo popolo nel regno della luce. Egli ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha introdotti nel regno del figlio suo amatissimo. Grazie a Lui siamo stati liberati perché i nostri peccati sono perdonati. Il Dio invisibile si è fatto visibile in Cristo, nato dal Padre prima della creazione del mondo. Tutte le cose create in cielo, sulla terra, sono state fatte per mezzo di Lui. Sia le cose visibili, sia quelle invisibili. I poteri, le forze, le autorità, le potenze. Tutto fu creato per mezzo di Lui e per Lui. Cristo è prima di tutte le cose e tiene insieme tutto l'universo. Egli è anche capo di quel corpo che è la Chiesa. È la fonte della nuova vita. È il primo risuscitato dai morti. Egli deve sempre avere il primo posto in tutto. Perché Dio ha voluto essere pienamente presente in Lui. Per mezzo di Lui ha voluto rifare amicizia con tutte le cose. Con quelle della terra e con quelle del cielo. Per mezzo della sua morte in croce Dio ha fatto pace con tutti. Un tempo anche voi eravate lontani da Dio. Eravate nemici perché pensavate e facevate opere cattive. Ora invece, per mezzo della morte che Cristo ha sofferto, Dio ha fatto pace anche con voi per farvi essere santi, innocenti e senza difetti di fronte a Lui perché rimaniate fermi e saldi nella fede e non permettiate a nessuno di portarvi lontano da quella speranza che è vostra dal giorno in cui avete ascoltato l'annunzio del Vangelo. Questo Vangelo è stato annunziato a tutti gli uomini in tutto il mondo e io, Paolo, sono diventato il suo servitore. Ora, io sono felice di soffrire per voi. Con le mie sofferenze completo in me ciò che Cristo soffre a vantaggio del suo corpo, cioè della Chiesa. Io sono diventato servitore anche della Chiesa perché Dio mi ha dato un incarico da compiere in mezzo a voi. Devo portare a compimento la Sua parola, cioè quel progetto segreto che Egli ha sempre tenuto nascosto a tutti ma che ora ha rivelato al suo popolo. Adesso Dio ha voluto far conoscere questo progetto segreto, grande e magnifico, preparato per tutti gli uomini. E il segreto è questo. Cristo è presente in voi e perciò anche voi parteciperete alla gloria di Dio. Quando con tutta la saggezza che mi è possibile predico, rimprovero e insegno parlo sempre di Cristo cosicché per mezzo di Cristo io possa far diventare ciascun uomo perfetto. Per questo mi affatico e mi impegno nella lotta sostenuto dalla potente forza che Egli mi dà. Voglio farvi sapere che io sono impegnato in una dura lotta per voi, per quelli di Laodicea e per tutti i nostri fratelli che non mi conoscono di persona. Voglio che tutti voi siate consolati e uniti nell'amore possiate avanzare verso la ricchezza della piena intelligenza. potrete così entrare nella perfetta conoscenza del mistero di Dio che è Cristo. In Lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Vi dico queste cose perché nessuno possa imbrogliarvi con discorsi affascinanti. Anche se con il corpo sono lontano, con la mia mente io sono in mezzo a voi e sono contento di vedere che vi comportate bene e che restate saldi nella fede in Cristo. Poiché avete accolto Gesù Cristo, il Signore, continuate a vivere uniti a Lui. Come alberi che hanno in Lui le loro radici, come case che hanno in Lui le loro fondamenta, tenete ferma la vostra fede nel modo che vi è stato insegnato. E ringraziate continuamente il Signore. Fate attenzione. Nessuno vi inganni con ragionamenti falsi e maliziosi. sono frutto di una mentalità umana o vengono dagli spiriti che dominano questo mondo. Non sono pensieri che vengono da Cristo. Cristo è al di sopra di tutte le autorità e di tutte le potenze di questo mondo. Dio è perfettamente presente nella Sua persona e per mezzo di Lui anche voi ne siete riempiti. uniti a Lui avete ricevuto la vera circoncisione, non quella fatta dagli uomini, ma quella che viene da Lui e che ci libera dalla nostra natura corrotta. Infatti, quando avete ricevuto il battesimo, siete stati sepolti insieme con Cristo e con Lui siete risuscitati, perché avete creduto nella potenza di Dio che ha risuscitato Cristo dalla morte. Un tempo, quando voi eravate pagani pieni di peccati, eravate addirittura come morti. Ma Dio che ha ridato la vita a Cristo ha fatto rivivere anche voi. Egli ha perdonato tutti i nostri peccati. Contro di noi c'era un elenco di comandamenti che era una sentenza di condanna, ma ora non vale più. Dio l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Così Dio ha disarmato le autorità e le potenze invisibili. Le ha fatte diventare come prigionieri da mostrare nel corteo per la vittoria di Cristo. Nessuno dunque vi condanni più a causa di quello che mangiate e bevete o perché non osservate certi giorni di festa, di sabato o di luna nuova. Tutte queste cose sono soltanto un'ombra di quella realtà che doveva venire, che è Cristo. Non lasciatevi condannare da gente fanatica che si umilia per adorare gli angeli. Corre dietro alle visioni e si gonfia di stupido orgoglio nella sua debole mente. Questa gente non rimane unita al capo, cioè a Cristo, mentre è Cristo che tiene unito e compatto tutto il corpo per mezzo delle giunture e dei legami. Egli dà nutrimento e lo fa crescere così come Dio vuole. Voi siete morti con Cristo e siete stati liberati dagli spiriti che dominano il mondo. Allora perché vivete come se la vostra vita dipendesse ancora da certe regole imposte da questo mondo? Perché vi lasciate dire questo non si può prendere, quello non si può mangiare, queste cose non si possono toccare? In realtà sono tutte cose che scompaiono dopo essere state usate. quelle sono regole e insegnamenti puramente umani. Possono sembrare questioni serie e sapienti perché trattano di devozioni personali, di umiltà o di severità verso il corpo. In realtà non servono a niente. Anzi, servono soltanto a nutrire la vostra supervia. Se voi siete risuscitati insieme con Cristo, cercate le cose del cielo dove Cristo regna accanto a Dio. Pensate alle cose del cielo e non a quelle di questo mondo perché voi siete già come morti. La vostra vera vita è nascosta con Cristo in Dio e quando Cristo, che è la vostra vita, sarà visibile a tutti, allora parteciperete anche voi visibilmente alla sua gloria. Perciò fate morire in voi gli atteggiamenti che sono propri di questo mondo, immoralità, passioni, impurità, desideri, maligni e quella voglia sfrenata di possedere che è un tipo di idolatria. Tutte queste cose attirano la condanna di Dio su quelli che gli disubidiscono. Un tempo anche voi eravate così, quando la vostra vita era in mezzo a quei vizi. Adesso, invece, buttate via tutto. l'ira, le passioni, le cattiverie, le calugnie e le parole volgari. Non ci sia falsità quando parlate tra voi, perché voi avete abbandonato la vecchia vita e le sue azioni, come si mette via un vestito vecchio. Ormai siete uomini nuovi, e Dio vi rinnova continuamente per portarvi alla perfetta conoscenza e farvi essere simili a Lui che vi ha creati. Così non ha più importanza essere greci o ebrei, circoncisi o no, barbari o selvaggi, schiavi o liberi. Ciò che importa è Cristo e la sua presenza in tutti voi. ora voi siete il popolo di Dio. Egli vi ha scelti e vi ama. Perciò abbiate sentimenti nuovi di misericordia, di bontà, di umiltà, di pazienza e di dolcezza, e di dolcezza. Sopportatevi a vicenda. Se avete motivo di lamentarvi degli altri, siate pronti a perdonare come il Signore ha perdonato voi. Al di sopra di tutto ci sia sempre l'amore, perché soltanto l'amore tiene perfettamente uniti, e la pace che è dono di Cristo regni sempre nel vostro cuore. A questa pace Dio vi ha chiamati tutti insieme. Siate sempre riconoscenti. Il messaggio di Cristo con tutta la sua ricchezza sia sempre presente in mezzo a voi. Siate saggi e aiutatevi gli uni gli altri a diventarlo. Cantate a Dio salmi, inni e canti spirituali volentieri e con riconoscenza. Tutto quello che fate, parole e aziende, tutto sia fatto nel nome di Gesù nostro Signore e per mezzo di Lui ringraziate Dio nostro Padre. Voi mogli siate sottomesse ai vostri mariti così come è giusto di fronte al Signore. Voi mariti amate le vostre mogli e non trattatele con asprezza. Voi figli ubbiditi ai genitori in tutto perché è questo che il Signore si aspetta da voi. voi genitori non esasperate i vostri figli perché non si scoraggiano. Voi schiavi ubbidite in tutto ai vostri padroni di questo mondo. Comportatevi con sincerità e agite per amore del Signore. non siate servizievoli solo per farvi vedere e per compiacerni. Quel che fate qualunque cosa sia fatelo volentieri come per il Signore e non per gli uomini. Voi sapete che la vostra ricompensa è l'eredità che riceverete dal Signore. Perciò è Cristo che dovete servire. Chi invece fa il male dovrà subire le conseguenze delle sue azioni chiunque sia perché Dio non fa preferenze per nessuno. Voi padroni date ai vostri servi tutto ciò che è giusto. Ricordatevi che anche voi avete un padrone in cielo. Pregate senza stancarvi e non dimenticate mai di ringraziare Dio. pregate anche per me perché Dio mi offra buone possibilità di diffondere il suo messaggio e di parlare del progetto di salvezza rivelato da Cristo. Per questo mi trovo ora in prigione ma voi pregate che io possa ancora predicare e parlare così com'è mio dovere. Sfruttate tutte le occasioni per comportarvi saggiamente con quelli che non sono cristiani. Parlate sempre con gentilezza e intelligenza per saper rispondere a tutti nel modo migliore. Il mio compagno Tichico nostro caro fratello e fedele servitore del Signore vi porterà tutte le notizie che mi riguardano. Io lo mando da voi per farvi sapere come sto e per darvi conforto. Con lui verrà anche Onesimo fedele caro fratello che è uno dei vostri. Essi vi informeranno su tutto ciò che succede qui. Aristarco che è in prigione con me e Marco il cugino di Barnaba vi mandano i loro saluti riguardo a Marco ricordatevi le istruzioni che avete già ricevuto se viene da voi fategli buona accoglienza. Vi saluta anche Gesù chiamato giusto soltanto questi tre fra quelli di origine ebraica hanno lavorato con me per il regno di Dio e sono stati per me una grande consolazione vi saluta Epafra anche lui è dei vostri questo servitore di Gesù Cristo è sempre impegnato a pregare per voi perché siate forti perfetti e fedeli a tutta la volontà di Dio posso dichiarare che egli fa tutto il possibile per voi per quelli di l'Odicea e per quelli di Gerapoli saluti anche da parte di Luca il caro medico e da parte di Dema salutate per noi Ninfa insieme con la comunità che si riunisce a casa sua e i fratelli che vivono all'Odicea quando avrete letto la mia lettera passatela a quelli di l'Odicea e voi leggete quella che ho mandato a loro dite ad Archippo cerca di compiere l'incarico che ti è stato dato in nome del Signore queste ultime parole le scrivo io Paolo con la mia mano saluti ricordatevi di me che sono in prigione la grazia di Dio sia con voi